Non ci sarà neanche un Ligure nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Carige. Il CDA dovrà essere eletto in occasione dell'Assemblea dei Soci, convocata per il 31 gennaio, e nelle liste presentate per le candidature non figura nessun personaggio Ligure. Ad avanzare le candidature per il CDA e per gli altri organi di controllo della Banca Ligure sono stati il Fondo Interbancario di Tutele dei Depositi, titolare di una partecipazione al 79,99% del capitale sociale, la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiana, titolare di una partecipazione all'8,34%. La notizia dell'assenza di Liguri nel prossimo Consiglio di Amministrazione di Carige ha fatto infuriare il Presidente della Regione Giovanni Toti, che ha espresso il rammarico della Regione ricordando gli esporzi profusi sia da Regione che da molti Liguri per salvare la banca che rappresenta un pezzo di storia della Liguria. Toti si è detto dispiaciuto che il nuovo azionista di riferimento non abbia saputo cogliere la ricchezza e le opportunità offerte dal territorio. Toti, che comunque rispetta le decisioni degli azionisti, parla di una scelta miope e contraria anche agli interessi dei lavoratori della banca.